Pericolo valanghe per il 9 e 10 febbraio 3 marcato sulla fascia retica 2 moderato sui rimanenti settori Analisi nivologica settimanale Il blocco ha ceduto sul lastrone che si è creato durante l'ultima nevicata di questa attività eolica Siamo in Val Tartano sulle Orobie e possiamo distinguere una situazione nivologica differente a seconda dell'esposizione Sui versanti nord abbiamo una neve più fredda con degli accumuli da vento soprattutto in prossimità delle creste Mentre a sud abbiamo molte dorsali erose e una neve decisamente più consolidata L'andamento delle temperature odierne e dei prossimi giorni favorirà il consolidamento in particolare sui versanti nord Il manto è in graduale e lento assestamento Soprattutto sui versanti nord rimangono gli strati deboli interni ancora molto freddi e si evolvono in modo molto molto bene Dalle esposizioni meno soleggiate e pendie nord in quota il pericolo di provocare distacchi rimane male male Salute Sì Grazie a tutti.